Sicura di uscire? No paura no, mi mancherà tutto Perché sei sicuro di uscire? Come vai? Quasi Partito del gioco Lo so Però pensano anche che in realtà In realtà io ce l'ho pensando adesso, in questo momento Ti giuro, 5 secondi fa Pensavo metti caso che io sono contro Michele, ok? Ok, metti caso che in quel momento faccio una canzone, ok? Che è solo quella Lì piace di più Tutto qua, semplicemente piace di più E vuoi premiare una roba? Un qualcosa, vuoi premiare? Passi tu, punto Capito? Feloce, mi penso, cioè Io ci penso Ok, penso a quello che è Però non guardare i punti Cioè Se sei lì e che hai una forte come Michele o come Non so Alex, ad esempio Non spaventarti Tampi di tanto Tu fai il tuo benissimo Ok? Ce l'ha Fatto tutto